Da oggi la Sicilia in zona gialla non cambia molto rispetto a prima perché con le nuove regole introdotte le restrizioni della zona gialla sono già applicate. In sostanza obbligo di mascherina sia il chiuso che l'aperto, nessun coprifuoco, nessuna chiusura di attività, meno spettatori però nei cinema e negli stadi, possa sedere preassegnati e la distanza interpersonale almeno di un metro, la capienza consentita non superiore al 50% della capienza massima autorizzata. È confermato l'obbligo del Green Pass per i mezzi pubblici nelle città e per i mezzi a lunga percorrenza. Per la consumazione al bancone dei locali serve il Super Green Pass e cade l'obbligo di far sedere massimo 4 persone al tavolo. Le restrizioni sono quelle inserite dal nuovo decreto legato al Super Green Pass che oramai è necessario per quasi tutte le attività al chiuso e all'aperto. Sono tre gli indicatori che determinano il colore delle regioni nel caso della zona gialla, incidenza e occupazione dei posti letti in area medica, ovvero ricoveri ordinari, e occupazione delle riemnimazioni, ovvero le terapie intensive. Quindi giusto perché scatti la zona gialla devono essere superate tre soglie limite di tutti insieme. 50 casi per 100.000 abitanti per quanto riguarda l'incidenza, soglie superate in questo momento da tutte le regioni, il 15% dei posti letto occupati in area medica, il 10% dei posti occupati in terapia intensiva.